Vieni, vieni Gianca, vieni Dai, dai ragazzi, un secondo, un secondo Guarda, due secondi vi mando a far la doccia Ehi ragazzi, seduti un attimo, dai, seduti Vieni di qua, vieni Elvis, vieni Chiudo leggermente, via, andiamo ad aprire quattro volte, via Con calma, con calma, con calma, ma aperto però La velocità non è importante Perché a questi venti minuti qua, date l'importanza Dai, andiamo ragazzi, veniamo Cinque minuti, eh Come abbiamo fatto ad arrivare in finale Sono stati bravi ragazzi a rispettare tutte le indicazioni Sia dal punto di vista educativo che dal punto di vista dell'alimentazione Hanno rispettato le indicazioni date dal mister Quindi evitare di stare al sole nei momenti più caldi E soprattutto hanno rispettato un tipo di alimentazione curata nel dettaglio Soprattutto nei giorni in cui era presente il match E in uno scarico, quando invece non era presente Grazie Vedete, loro giocano con queste due punte a questa altezza qui Quindi, Davide, il play che viene a giocare qui Sì, va bene, però, cosa facciamo? Allora, o abbiamo, e noi calcoliamo che ne abbiamo tre qui Quindi non serve che tu vieni qui, capito? Quindi noi abbiamo uno, due, tre Che dobbiamo allargarli un po' Tanto guardate, non viene la pressione, ok? Loro si mettono qua e lavorano così Quindi i tre siamo qua E il play deve lavorare qui Perché? Per tenere uno di questi giocatori impegnato Se tu vieni qua, ok? Questo viene qua con te Allora, lo spazio da liberare, mira Ting, è questo Ok? E Chester, ting, è questo E questo giocatore qui, quinto Un po' più alto E questo Se ne è corretto di questo qua Qua dietro un po' più Non è che gioca larga Vedi che gioca bella stretta Però se tu ti abbassi un pochino Lui non fa in tempo a venire Devi sempre essere girato bene col corpo Se ti dà la palla Sottini della situazione O Visor della situazione O Moretti della situazione Tu qua, ok? Dopo hai 6-7 metri per girarti Puntare e fare una superiorità O puntare e giocare dentro per le punte Anche se è difficile Questi sono i due mediani Non è che ne hanno altri dopo Anzi no, questa è la punta esterna Ci sono i due mediani qua Sono molto stretti Quindi un po' di spazio qui ce lo lasciano sull'esterno Bravia Giocare Tenire di qua E poi dentro questi spazi qua Forza, Inter Grande Inter Salve Salve Tutti Grazie a 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 tutti